Buongiorno a tutti i miei amici e amici in ascolto, ben ritrovati, bentornati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà che è giunta alla ventisettesima parte. Proseguiamo il nostro viaggio che questa sera si arricchirà di nuove tessere in questo divino mosaico che il Signore ha realizzato attraverso il capolavoro di questi scritti davvero di cielo che ha donato alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Questa sera ancora proseguiremo la lettura di ampi stracci del ventisesimo volume, ci sono ancora diversi episodi da vedere, i primi due e tre che leggeremo sono abbastanza accomunati nel tema, quindi vediamo un po' ecco perché casomai li commentiamo comunque una alla volta però vedremo ricorrere ecco il tema del un aspetto particolare ecco della creazione del primo uomo cioè la permanenza nell'essere degli atti compiuti da Adamo nella Divina Volontà e l'importanza di essi. Ecco è un tema che è un po' quello dominante questa sera e che introduttoriamente si può si deve dire che Adamo c'è stato un tempo in cui ha vissuto nella Divina Volontà e durante questo tempo ha compiuto degli atti. Vedremo che il Signore ci spiegherà come questi atti divini una volta che sono compiuti e questo vale anche per gli atti che compiamo noi nella Divina Volontà quindi è davvero una bella notizia e non ci appartengono sotto certi punti di vista più in che senso cioè che Dio li prende e li fa suoi. Quindi se anche uno si dovesse impazzire come di fatto successe ad Adamo e taglia i ponti con quegli atti quegli atti non possono appunto perché atti divini venire meno rimangono e nel loro rimanere producono comunque alcuni benefici effetti per tutti. Ecco sono anche il fondamento di ulteriori grazie concesse da parte del Signore e di ulteriori grazie che in forza di essi può concedere il Signore. Ecco questo è un pochino al titolo di introduttore dei primi tre brani che leggeremo poi vediamo un po' le circostanze di tempo fino a dove ci conducono perché per chiudere il ventisesimo volume ce ne sono altri due molto brevi che vedremo spostano un pochino l'attenzione sulla Madonna. Vediamo come e dove ci guida il lingua e le passi immediatamente alla lettura del primo in modo tale che non ci si dilunghi troppo in introduzioni stiamo al ventisesimo volume 25 maggio 1929 Dopo ciò stavo seguendo i miei atti nel Fiat Divino e giunta nell'Eden pensavo tra me in questo Eden il nostro primo padre Adamo fece i primi atti nel Fiat Divino sicché la creazione tutta ebbe principio in un atto di volontà divina operante in tutte le cose create come pure nel primo uomo essa stendeva la pienezza della sua santità potenza, bellezza e luce in ciascuna cosa facendosi Dio attore e spettatore racchiudendo tutto in un solo atto di sua volontà divina come era bella la creazione nel suo principio una era la volontà che operava e i diversi atti non erano altro che gli effetti di essa prima di sentire la risposta di Gesù invito, mi si perdono l'interruzione, brevemente a far notare come una persona culturalmente limitata come era Luisa prima elementare fa un discorso di questo genere cioè chi ascolta si chieda me lo chiedo anch'io io sarei capace di fare un discorso di questo genere a Gesù quindi avere questa lucidità mentale per capire come al momento della creazione il principio è un atto di volontà divina operante in tutte le cose create e quindi Adamo negli atti che compie in essa non fa altro che dar vita ed efficacia a quest'unica volontà operante insomma questo è un concetto abbastanza elevato insomma per il livello culturale insomma di una prima elementare che fa comprendere anche come nelle cose dello spirito non dobbiamo metterci paura mi permetto questa piccola cosa perché ogni tanto ancora arriva qualche mail o arriva qualche ma gli iscritti di Luisa sono belli però a tratti sono un po' troppo complicati difficile è questione piano piano di tempo cioè non è troppo difficile non bisogna dare dare letta a queste cose certamente occorre familiarizzarsi con un certo stile con alcuni orizzonti che vengono aperti certamente d'accordo è come tutte quante le cose ci vuole un pochino di tempo ma è cosa alla portata di tutti d'accordo perché se c'è arrivata una con la prima elementare ci possono arrivare tutti l'importante è che ci sia la luce della grazia che ci illumina ma non può mancare la luce della grazia a chi davvero non ha parole né con la lingua mi permetto insomma di chiosare l'espressione di San Giovanni Evangelista ma coi fatti e nella verità vuole entrare in questo mondo cioè perché Dio lo vuole più e prima di noi quindi certamente ci vuole l'impegno l'impegno dell'attenzione l'impegno della lettura la meditazione quindi il digerire le cose con calma certamente ma nessuno pensi che qui si tratta di cose semplicemente perché magari legge un test ci sono dei testi un pochino più ostici certamente negli scritti no ma questo si fa come quando uno sta all'università quando uno legge un testo non capisce subito tutto d'accordo vai avanti continua a leggere non ti preoccupare alla seconda lettura lo capirei meglio alla terza meglio ancora alla quarta meglio ancora non è un problema bene sentiamo la risposta di Gesù a questa introduzione così elevata ecco di Luisa ma mentre ci ho pensato il mio amabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia tutte le generazioni pendono dai primi atti fatti da Adamo nella pienezza della mia divina volontà perché essendo atti fatti in essa pieni di vita erano atti pieni di vita e potevano dare principio e vita attenzione a tutti gli altri atti delle creature e adonta che le creature non vivano di mia volontà ma della loro è sempre essa che dà loro vita e mentre dà loro la vita la tengono come soffocata e agonizzante negli atti loro perciò tutti gli atti di Adamo fatti nel mio volere stanno come atto primo di tutti gli atti delle creature chi può distruggere un atto fatto nella mia divina volontà chi mai può toglierle la sovranità la potenza la bellezza la vita nessuno non c'è cosa che non penda dal primo atto tutte le cose create pendono dal primo atto fatto da colui che le ha create e se tanto amo sospiro e voglio che la mia volontà sia conosciuta e regni in mezzo alle creature è proprio questa la ragione che siano restituiti i suoi diritti giusti e santi e che come da essa ebbe principio la creazione così ritorni tutta nella nostra divina volontà ecco diciamo che in questo primo scritto sul tema quindi capiamo che qui si considera Adamo in quanto capostipite dell'umanità al positivo però ecco perché noi spesso ovviamente perché insomma ci stiamo a combattere e a tribolare consideriamo Adamo in negativo quindi in quanto capostipite del genere umano ha trasmesso a tutti noi il suo peccato originale originante così si chiama in teologia a noi peccato originale originato che produce una montagna di guai di disastri però qui dice un'altra cosa che tutti quanti gli atti fatti da Adamo nella pienezza della mia divina volontà attenzione sono atti pieni di vita Dio è vita agire nella divina volontà significa generare la vita attenzione cosa ci dice San Paolo che cos'è il peccato in due parole generare la morte se uno volesse proprio dire che cos'è il peccato in due parole anzi togliamo l'articolo generare morte che cos'è un atto nella divina volontà generare vita vita chiaramente in senso ampio non soltanto vita biologica la vita biologica sicuramente dopo il peccato originale si genera in un certo modo ben preciso ma vita nel senso di gioia felicità bene benessere allegria d'accordo pace tutte le cose più belle che ci possiamo immaginare quindi Gesù si attento che prima di essere la causa della rovina della razza umana tutti tutte le generazioni pendono dagli atti fatti da Adamo in quanto produttori di vita e che danno principio e vita a tutti gli altri atti di tutte le creature qui c'è un principio profondo mi pare che in tante altre circostanze in altre circostanze insomma anche in altri cicli di catechesi ho cercato di parlarne noi non potremmo nessuno non potremmo io non potrei parlare io non potrei nemmeno respirare d'accordo quindi la mia anima che è la direttrice di tutte quante le funzioni della mia persona alcune consce altre inconsce d'accordo nulla si potrebbe fare di esse non soltanto se Dio non mi avesse creato da nulla ma se Dio non mi mantenesse continuamente nell'essere quando Gesù dice che la divina volontà dà vita alle creature adonta che le creature non vivono della divina volontà ma della propria e che la tengono come soffocate agonizzante negli atti lo dice questo cioè io adesso posso parlare chi sta ascoltando in diretta questa catechesi o chi la ascolterà indifferita la può ascoltare e questo lo sappia perché in questo preciso istante d'accordo a cui fino a quando siamo in questo mondo siamo legati e noi siamo legati a doppia catena all'istante presente io non posso tornare all'inizio di questa catechesi non posso andare indietro di 14 minuti e non posso arrivare già adesso alla fine facendo un bel tra 40 minuti tra 40 minuti quando sarà finita la catechesi lo posso fare posso istante dopo istante pensare parlare e commentare e così istante per istante chi ascolta mano a mano che parlo capire intelligere quello che sto dicendo eccetera d'accordo ma tutto questo lo posso fare perché Dio mi sta mantenendo nell'essere come attraverso la sua volontà e qui Gesù aggiunge che tutti gli atti che sto compiendo non soltanto dipendono dal suo eterno atto conservativo dell'essere ma anche dalla trasmissione dalla diffusione in me e in tutti noi della vita prodotta dagli atti compiuti da Adamo nella divina volontà prima che peccasse vedremo negli scritti seguenti quanto è importante che Adamo abbia fatto prima questi atti è fondamentalissimo d'accordo anche questa è una cosa bellissima da da sapere no perché a parte che abbiamo Sant'Adamo attenzione a parlare male di di Adamo perché Sant'Adamo sta in paradiso no questi scritti gli scritti di Luisa da un lato evidentemente come tutta la dottrina cattolica sana dottrina cattolica fa cioè affermano la serietà gravissima del peccato originale l'impero della volontà umana viene da lì il dominio anche della mia volontà umana e la sua volontà di imporsi e di andare contro e di verreggiare contro la divina come dire trae la forza propulsiva l'impulso la tendenza la benzina dal peccato originale certamente però Adamo non ha fatto solo questo ci sono gli atti che ha fatto prima e sappiamo che questi scritti li abbiamo già letto come dire alleggeriscono un pochettino il peso di Adamo perché Adamo ha fatto solo quel peccato non ha fatto nient'altro tutta la vita e ha fatto penitenza per tutta la vita si è pentito per tutta la vita di quello che aveva fatto e poverino ha fatta grossa certamente ma come dice Gesù in uno scritto che abbiamo letto nelle puntate precedenti non si rendeva conto non aveva come noi un termine di Paragonice che succederà dopo che ho fatto questa cosa si c'era la minaccia insomma nella parola di Dio ma non si rendeva conto che sarebbe stato un disastro non solo per lui ma per tutto il genere umano quindi attenzione a non prendersela mai con con il nostro caro padre Adamo ma volergli anche un pochino di di santo bene allora andiamo avanti perché sempre su questo tema i due scritti successivi aggiungono qualche altra tessera quindi il tema dominante sono gli atti di Adamo compiuti nella divina volontà prima del peccato originale sempre il 26esimo volume 4 giugno 1929 figlia mia ciò che si fa nella mia divina volontà resta sperduto in essa e come sono inseparabili la luce e il calore e se si estingue la luce resta estinto il calore e se si dà vita alla luce di sua natura la luce può sorgere insieme la vita del calore così gli atti della creatura fatti in essa sono inseparabili dal mio volere molto più che non è soggetta a estinguersi perché luce eterna e immensa perciò Adamo quando peccò uscì dalla mia volontà attenzione a questo passaggio ma gli atti suoi restarono in essa poi spiegheremo bene questo passaggio importantissimo è delicato lui potete distaccarsi dai suoi stessi atti ma gli atti suoi fatti nel mio volere non potettero uscire né distaccarsi perché già avevano formato la loro vita di luce e di calore in esso gli atti che entrano nella mia volontà perdono la vita in essa con la E maiuscola formano la stessa vita perdono il diritto di uscire ed il mio volere dice questi atti sono stati fatti in casa mia nella mia luce i diritti sono miei e non c'è forza umana né divina che possa far uscire e separare un atto fatto dalla creatura nella mia volontà ecco perché gli atti di Adamo fatti in essa prima di peccare qui ribadisce il concetto di prima stanno come atto primo da cui dipendono la creazione e gli atti delle umane generazioni ora supponi che tu esca dalla mia volontà tu esci e resti fuori ma i tuoi atti non escono non hanno diritto di uscire né possono e fino a tanto che tu resti nel mio volere i tuoi atti sono miei e sono tuoi ma se tu esci perdi diritti e siccome sono stati fatti nel regno della mia divina volontà e non nell'umano volere restano diritti miei adonta che si vedano e siano conosciuti come fatti da te questa è veramente tanta roba speriamo che il signore ci aiuti a comprendere bene la sottigliezza di questi passaggi allora perché Adamo è l'atto primo attenzione è della creazione e degli atti di tutte le umane generazioni perché gli atti che ha compiuto nel divino volere prima della colpa d'origine sono atti che sono rimasti in Dio come atti suoi lui è uscito dalla divina volontà peccando ma gli atti compiuti prima sono rimasti in essa quando noi facciamo un atto nella divina volontà ecco perché è così importante attenzione cioè allora tante volte ho detto e lo ripeto non basta fare l'atto preventivo per vivere nella divina volontà non basta fare un atto attuale quindi dire viene divina volontà nel mio mangiare viene divina volontà nel fare questa catechesi viene divina volontà nel ascoltare questa catechesi nel mio pensare nel mio corso nel mio muovermi non basta magari fosse solo così facile però 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 questi atti l'atto preventivo e l'atto attuale in particolare rimangono importantissimi perché un aspetto fondamentale della divinizzazione dei nostri atti è semplicemente attraverso un atto della mia volontà portarli in quella divina e quindi divinizzarli fare in modo che non siano più atti miei ma appunto diventino atti di Dio in modo tale che se io non lo so poi faccio un peccato mortale e perdo non soltanto la vita divina non perdo pure la grazia quegli atti di cui Gesù dice tu hai perso i diritti su di essa perché un atto divino è un atto produttivo e foriero di luce di pace di gioia e di vita quindi se tu vivi nella divina volontà ecco perché è così bello è così importante tu vivi in un ambiente di luce di gioia di pace di vita di felicità se tu tagli i ponti uscendo dalla divina volontà si interrompe come se tu tagliassi un filo elettrico quindi ma fino a quando il filo elettrico rimane connesso alla centrale la corrente resta sempre e ci sta sempre attenzione costante d'accordo quindi attenzione se tu tagli da quel momento in poi tu non sei più connesso alla sorgente ma tutta la vita che c'è stata prima rimane attratta dalla sorgente questa è tanta roba i tuoi atti sono miei e sono tuoi se tu esci perdi i diritti ma siccome sono stati fatti nel regno della mia divina volontà e non nell'umano volere restano diritti miei adonta che si vedano e siano riconosciuti come fatti da te e questa è veramente tanta roba quindi quando noi usciamo nel poco nel molto dalla divina volontà questo vale anche per noi noi ci distacchiamo dagli atti compiuti precedentemente nel divino volere ma attenzione quelli che abbiamo fatti come tali non possono uscire né distaccarsi dal divino volere in cui si trovano perché? perché ogni atto fatto nel divino volere è un sole volendo utilizzare la metafora che usa Gesù è vita luce e calore è bellissimo tutto ciò che si fa nella mia divina volontà resta sperduto in essa è un termine tecnico lo sperdersi ci sono dei termini che a me piacciono molto già per noi mortali quando diciamo voglio perdermi in te se non lo dice già Gesù è una cosa bella insomma è una frase proprio di amore da giovane si diceva quello è innamorato perso d'accordo si diceva proprio così ma qui è ancora di più è innamorato sperso proprio cioè sperso da proprio l'idea di uno che sta proprio cioè che che è proprio partito nel senso che è proprio irreversibile quindi resta sperduto in essa sperduto come quando dice che gli atti nella divina volontà spolverizzano tutto quanto l'umano bellissima spolverizzare bellissima non polverizzare ma spolverizzare questi rafforzativi un po' caratteristici ecco di questo di questo linguaggio che sono a mio avviso molto molto belli gli atti della creatura fatti nella divina volontà sono inseparabili dal mio volere perché non sono soggetti ad estinguersi perché hanno generato luce eterna ed immensa cioè noi dobbiamo un attimo comprendere il mondo dice San Giovanni giace schiavo del peccato noi stiamo intorno questo fatto catechesi su catechesi su catechesi no cioè noi dobbiamo immaginare il peccato come una continua fabbrica gigantesca a ciclo continuo a produzione continuo che produce in continuazione morte che produce sofferenza dolore male fisico psichico morale spirituale disgrazie tragedie cataclismi rivolte del creato tutto quello che noi vediamo di brutto o che percepiamo di brutto questo dice papà francesco mettiamocelo bene in testa è tutto ma proprio tutto figlio della volontà umana cioè del peccato e allora qui bisogna fare qualcosa capito perché qui ecco perché magari nascessero tanti figli della divina volontà perché capite cioè dinanzi a questa mare di marea montante di fango e di letame che ogni giorno nel mondo c'è una produzione che è altro che i rifiuti della terra dei fuochi della campania c'è tanta quella monnezza che non siamo asfissiati ancora non lo so chi ci mette un argine chi ci mette un muro chi chi si mette a produrre luce e vita noi dobbiamo cioè avere la consapevolezza e per produrre luce e vita non devi essere chissà non devi essere per forza il papa o il vescovo chi te pare o una persona importante o un capo di stato o una persona in vista o che devi fare chissà che cosa devi predicare devi scrivere libri assolutamente basta che ti metti a fare un bel po' di atti nella divina volontà basta che produci sole luce e vita e questo è il primo che ne farà beneficio perché questo è ovvio sei tu vuoi sapere che stai vivendo nella divina volontà guarda come stai nessuno di noi può raccontarsi le balle a se stesso guarda come stai vedi come ti senti e se poi sei ancora più bravo e sei più coraggioso fatti un giro intorno guardati un po' intorno e vedi la percezione che c'hanno di te le persone che ti stanno vicino una persona che vive nella divina volontà e che ha questa solarità questa gioia del cuore questa carità comune e ordinaria è una persona gradevole piacevole per cui anche i peccatori anche le persone che conoscono Dio quando ci stanno vicino stanno bene se noi siamo ancora abbastanza odiosetti antipatici forastici scorbutici e cose affini non voglio fare sempre il distruttista c'ha tornato di sempre che non stiamo la divina volontà ci fa venire la depressione non voglio venire la depressione ma non può essere d'accordo cioè chi incontrava la madonna cioè nessuno sapeva chi era la madonna nessuno lo sapeva sulla terra chi era la madonna state proprio tranquilli beata chi la potuta ma quando incontravi la madonna te si riempiva il cuore stavi bene stavi cioè se la madonna andava a fare la spesa e ci andava a fare la spesa secondo me ci andava perché la madonna la straordinarietà della sua vita era tutta quanta interiore nascosta quindi non dobbiamo immaginarla come una persona che viveva nelle nuvole viveva una vita esternamente normalissima quindi andava a fare la spesa sicuramente non so che cosa si compravano insomma a quei tempi o se c'erano un pochino di cose insomma ma girando per il paese qualcuno parlava con Maria l'amica la vicina la pare ma stava benissimo stava stava benissimo e perché e loro non lo sapevano perché non perché era la madre di Dio non lo dico non perché era la madre di Dio ma perché era una divina volontà perché lei è stata la madre di Dio come gli scritti ci dicono benissimo solo perché stava in questa vita se non ci sarebbe diventata la madre di Dio cioè su questo non una persona per esempio ti arrabbi ancora troppo facilmente se uno ci pensa che cos'è arrabbiarsi cos'è arrabbiarsi perché noi ci arrabbiamo avanti commenti in diretta su Facebook perché ci arrabbiamo tu ti arrabbi quando non si può fare quello che vuoi tu quando la tua volontà è contrariata in qualche cosa e tu quella cosa la vuoi fare per forza e dinanzi agli ostacoli che possono essere di vario genere insomma altre volontà che ti soppongono incidenti imprevisti difficoltà oggettive diventi la belva d'accordo e questo deve essere anche nel nel bene qui ci stanno tutte quante adesso non voglio divagare voglio tornare insomma nel nel tema no se tu hai fatto la ferma risoluzione di vivere nella divina volontà di cui uno dei tratti essenziali è che io faccio una cosa solo se Dio vuole in quanto Dio lo vuole perché Dio lo vuole come Dio lo vuole quando Dio lo vuole quanto Dio lo vuole mi viene in mente di fare una cosa bella per nostro signore cominciano a sorgere una mantagna d'ostacoli non si fa finito io stasera sto facendo sta catechesi perché perché ho la possibilità di farlo se mi chiamava una persona alle 9.25 e mi diceva sono morito l'onora mi serve l'olio santo bel messaggino su facebook e niente diretta ci vediamo la settimana prossima andiamo tranquillamente a darglielo l'olio santo finito no ma come la categoria è tanto bella è importante le persone mi stanno aspettando lo so che mi stanno aspettando d'accordo quindi perché ho scritto che avrei fatto insomma sta cosa e c'è qualcuno che la sta seguendo in diretta ma se la volontà divina avessi manifestato ma proprio senza nessun problema questa stupidaggine questo vale per le piccole o per le grandi cose se uno entra in questo mondo non ti arrabbi più come fai? è facilissimo smetti di voler fare quello che vuoi tu anche nel bene d'accordo anche nel bene perché il bene bisogna farlo bene diceva già Sant'Alfonso quindi ma io volevo fare sto pellegrinaggio gli eventi si dispongono in maniera tale che tu ci possa andare vai succedono una serie di cose perché non puoi andare non vai ah ma ci teniamo tanto lì devo pregare ma non vai perché se il nostro signore non te ci manda non è non è il momento non è per te non va bene statene tranquillamente alla casa io per esempio io per esempio se uno mi dicesse qual è la cosa più una delle cose più brutte che ti potesse capitare che non posso celebrare la messa durante una giornata ma se io non voglio il nostro signore un giorno mi chiappa mi chiude dentro un ospedale che mi viene un brutto male mi operano e non posso celebrare e signore mio soffro non celebro la messa la sto celebra dentro il letto dell'ospedale se Dio vuole quello tocca tocca far quello d'accordo perché anche la cosa più bella di questo mondo che per un sacerdote dovrebbe essere la messa non è il bene assoluto perché il bene assoluto è la divina volontà io celebro la messa per grazia di Dio perché Dio mi ha voluto sacerdote non è mica che è un mio diritto quindi fino a quando il signore me lo concederà per quanto sta in me non esiste che non lo celebro ma se le circostanze me lo dovessero impedire che mi metto affalmatto no perché se le circostanze me lo dovessero impedire vuol dire che Dio un giorno mi chiede quel sacrificio quel sacrificio si fa finito cioè capiamo no questo subito che allora fine della divagazione che è durata fin troppo andiamo al terzo scritto sempre in tema quindi in questo secondo scritto abbiamo Gesù ha stabilito come dire perentoriamente che è un atto fatto nella divina volontà e nel momento stesso in cui viene fatto si distacca dalla volontà umana fusa con la divina che la posti in essere e appartiene a quella divina per cui se tu continui a vivere nella divina volontà quell'atto ti spiegherà i suoi effetti di luce e di positività anche su di te a tempo indeterminato se ti ammattisci come se è mattita d'amo a un certo punto tagli i fidi quell'atto rimane come produttivo di vita e di luce in Dio bellissima che è questa cosa qui terzo scritto ventisesimo volume 14 giugno 1929 figlia mia quante cose indimenticabili ci sono in questo Eden qui il nostro Fiat creò l'uomo e sfoggiò tanto in amore che a torrenti si riversò su di lui tanto che sentiamo ancora il dolce mormorio con cui ci riversavamo sopra di lui qui cominciò la vita del nostro Fiat nella creatura e il dolce e caro ricordo degli atti del primo uomo fatti in esso questi atti di nuovo esistono tuttora nel nostro volere ed ecco la novità e sono come pegni che di lui rimasero per riavere il regno del nostro Fiat ecco il terzo elemento in questo Eden c'è il doloroso ricordo della caduta dell'uomo l'uscita che fece dal nostro regno sentiamo ancora i suoi passi quando uscì dal nostro Fiat divino e siccome questo Eden era stato dato a lui affinché vivesse in esso perciò fummo costretti a metterlo fuori e avemmo il dolore di vedere l'opera a noi più cara senza regno suo ramingo e dolorante l'unico nostro sollievo attenzione furono i pegni degli atti suoi rimasti nel nostro volere questi chiamavano i diritti dell'umanità a rientrare lì da dove uscì ecco perché ti aspetto nell'Eden per ricevere il tuo tenue interesse per rinnovare ciò che facemmo nella creazione e ricevere il ricambio di tanto amore non compreso dalle creature e per trovare un amoroso pretesto di dare il regno della nostra divina volontà perciò voglio che sia anche a te caro questo Eden affinché ci preghi ci pressi che ritorni il principio della creazione la vita del nostro fiat in mezzo all'umana famiglia allora due cose su tutte in questo altro splendido capitolo primo quegli atti fatti da Davo nel divino volere prima del peccato originale che fanno di lui principio non soltanto della rovina dell'umanità ma anche di tutti quanti i beni benefici e della vita dell'umanità che in quanto da lui fatti nel divino volere sono e permangono in dio nonostante che a un certo punto Adamo sia uscito dal divino volere terzo punto qui sono i pegni per riavere il regno del divino volere cioè quegli atti stanno dinanzi a Dio a mostrargli incessantemente chi è l'uomo quale lui l'ha creato e quale ponte poi sia stato tagliato vedremo che l'ultimo scritto che leggeremo ce lo dobbiamo fare ci mostrerà la Madonna come con lei che gli ha fatto vedere il libro completo della vita umana nella divina volta senza manco una sgrammaticatura l'unica però questi atti sono rimasti come pegni l'unico e cosa fanno questi pegni chiamano i diritti dell'umanità a rientrare da dove uscire sapete che un pegno è una garanzia reale del credito cioè se è stato dato un pegno vuol dire che devo restituire quello che tu mi hai prestato per riavere il pegno cosa deve restituire Dio al genere umano in cambio del pegno degli atti compiuti da Damo ne devono volere la vita ne devono volere quindi se per esempio per assurdo appena creato avessi fatto subito il peccato originale non avessi fatto neanche un atto nel divino volere a Roma dicono te saluto scuffia sarebbe stata la fine sarebbe stata la fine ma siccome li ha fatti prima di fare il peccato originale ha come dire posto in Dio questo pegno reale per cui dice solo questione del tempo adesso bisognerà passare sacco dei anni dei millenni prima di mettere a posto l'uomo fare l'opera della redenzione insegnargli intanto a camminare come un ospedale da campo d'accordo quindi a fasciarsi in continuazione le ferite con la confessione con l'eucaristia con la preghiera quindi con la vita di grazia e poi al tempo opportuno tacchete dopo che intanto c'è stata una creatura per mezzo della quale è venuto il redentore che ha fatto percorso netto e che anche lei immaginiamo tutti gli atti della madonna quanto premono dinanzi all'altissimo arriverà poi un momento in cui il signore si è scelta un'altra creatura che è stata Luisa peccatrice che ha cominciato come peccatrice in quanto figlia di Adamo adesso non voglio offendere Luisa Piccarredo ovviamente ma in quanto figlia di Adamo aveva il peccato originale e voglio sperare certamente piccoli piccoli ma sicuramente qualche piccolo peccato in vita l'hanno fatto e però poi a un certo punto ha cominciato a vivere nella divina volontà come quindi se fosse una cioè in mezzo c'è la madonna che è la perfezione assoluta poi c'è Adamo che ha cominciato nella divina volontà e ha caduto nel peccato e c'è Luisa che è nata nel peccato e ha finito nella divina volontà la prima di una speriamo lunga serie di uomini e di donne che come Luisa cominciano nel peccato come me come chi sta ascoltando e si spera che finiscano nella divina volontà altro aspetto che emerge da questo scritto era insomma ma che cos'era questo Fiat che cos'è questo Fiat che cos'è qui il nostro Fiat creò l'uomo e sfoggiò tanto in amore che a torrenti si riversò su di lui attenzione perché io continuo a dire e a ripetere io continuo a dire e a ripetere noi nessuno di noi e basta leggere un pochino gli scritti anche i rapporti intimissimi che avevano Gesù e Luisa ha un'idea adeguata dell'amore divino per sé bisogna cominciare ad addentrarsi e di non trarsi in questo mondo cioè Gesù questo lo dice negli scritti stavo delirando delirò d'amore sono pazzo d'amore si guardino anche si leggano con questo orizzonte con questa attenzione alle ore della passione vado in delirio vado se perdo un'anima vado in delirio io penso che bisogna leggere con attenzione ma come va in delirio ma come va in delirio ma chi parla è Dio come fa ad andare in delirio ma che te ne importa di me queste cose ce le abbiamo nella scrittura pensiamo al Salmo 8 se guarda il tuo cielo opere delle tue dita le lune delle stelle che tu hai fissate e questo scriveva 3.000 anni fa noi sappiamo adesso che ci stanno le galassie a milioni di anni luce milioni di anni luce milioni di anni luce d'accordo e tu stai a pensare a me che cosa è l'uomo perché te ne ricordi dice il Salmo il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero eppure l'hai fatto poco meno degli angeli di gloria e di onore lo hai colonato e gli hai dato potere sulle opere delle tue mani tutto è posto sotto i suoi piedi questa sagra scrittura il fiat e l'amore di Dio sono fusi d'accordo la divina volontà è esternazione dell'essenza di Dio che è l'amore la divina volontà è sempre amore noi non sempre lo vediamo ma è sempre amore tornate all'esempio di prima non andare a quel pellegrinaggio che ci tieni tanto perché il nostro Signore sa che non te va bene è amore anche se te amore non ti sembra quella disgrazia è amore anche se te non ti sembra quel problema quella situazione è amore anche se te non ti sembra dice a Luisa ecco perché ti aspetto nell'Eden per ricevere il tuo tenue interesse per rinnovare ciò che facevamo nella creazione e ricevere attenzione il ricambio di tanto amore non compreso dalle creature non compreso non compreso non comprendere l'amore di Dio è cosa che fa secondo il nostro modo di parlare soffrire il Signore e infatti quali sono alcuni esercizi fondamentali nella Divina Volontà che significa fare un giro nel fiat creante o nel fiat redimente o nel fiat santificante andare a riconoscere i ti amo dell'Altissimo che sono noi siamo soffocati d'accordo siamo cioè noi saremmo come un pesce che vive dentro un pesce che vive dentro l'oceano è soffocato cioè è avvolto dall'acqua no? dovunque si gira trova acqua ecco ma i ti amo di Dio per noi sono continui interrotti e bisogna imparare accoglierli dovunque io adesso sto respirando gli atomi di cui è composta l'aria idrogeno l'ossigeno l'azona adesso non vorrei insomma che tante volte vorrei aver studiato un po' di più anche la chimica tutte ste cose perché nella chimica gli atomi tra l'altro atom atomi mi hai in mente adesso è un anagramma di ti amo no? a-to-mi sì atomi pensiamoci fai l'anagramma esce fuori ti amo a-to-mi ti amo d'accordo? ecco quindi nella particella elementare della materia c'è un ti amo e siccome tutto ciò che ci circonda sono atomi e molecole solo che l'uomo non lo riconosce amore non compreso è un esercizio fondamentale per entrare nella divina volontà è rendersi consapevoli di questo canto di amore che Dio fa per andare innanzitutto ad accoglierlo San Giovanni dice Dio ci ha amati per primi non siamo stati noi ad amare Dio ma è Lui che ha amato noi perché tu non ti innamorerai di Dio assolutamente come la vita della divina volontà è vita da innamorati di Gesù e di Maria ma tu non ti puoi innamorare se non ti senti amato perché l'innamoramento è reciproco in una coppia se devono una malauta e due ecco ma chi comincia a fare la corte è Lui è il Padre Eterno è Lui che corteggia noi allora leggiamo gli ultimi due ce n'è uno brevissimo che è 27 luglio 1929 che dice così dice la facciamo e così chiudiamo il discorso figlia mia la redenzione e il regno della mia divina volontà sono andati sempre insieme per venire la redenzione e qui cominciamo a raccordarci con la divina Maria ci voleva una creatura che vivesse di volontà divina come viveva la dama innocente nell'Eden prima di peccare e questo con giustizia con sapienza per nostro decoro affinché il riscatto dell'uomo caduto fosse basato sull'ordine come la nostra sapienza nel principio creò non sarebbe venuto il regno della divina volontà se adama non avesse compiuto degli atti nella divina volontà che stavano come pegni davanti al trono di Dio non sarebbe venuto il redentore se non trovava una creatura che avesse mantenuto essendo stata ripristinata resettata fin dall'origine il contatto aperto con la divina volontà questo ce lo dice chiaramente gli stessi non bastava a compiere l'incarnazione il fatto che la madonna fosse immacolata ma era immacolata e vivente nella divina volontà ecco perché era così bella amabile attraente come abbiamo visto prima non perché era madre di Dio perché senza la vita nella divina volontà non sarebbe diventata madre di Dio a queste cose alludono neanche troppo veratamente quei brani apparentemente antimariani del Vangelo dove quando dicono dove è tua madre tu dici tua madre i miei fratelli ti cercano cosa risponde Gesù chi è mia madre chi sono i miei fratelli chi fa la volontà di Dio è fratello sorella e mare e concludiamo appunto in bellezza con l'ultimo brano su Adamo del ventisesimo capitolo stavolta è 8 settembre 1929 la festa liturgica della natività della Madonna che dice così figlia mia anch'io voglio inneggiare insieme con te con tutta la creazione la nascita dell'altezza della mamma mia questa celeste bambina col tenere attenzione integra nell'anima sulla nostra divina volontà senza mai fare la sua ecco i grandi imitatori della Madonna chi è il grande imitatore della Madonna e la vera devozione consiste nell'imitazione vuoi fare felice la Madonna vuoi essere un figlio di Maria vuoi essere uno schiavo di Maria dice San Luigi Monfort vuoi fare tutto quello che ti pare impara a non fare mai la tua volontà mai questa celeste e bambina vuoi tenere integra nell'anima sua la nostra divina volontà senza mai fare la sua riacquistò tutti i diritti di Adamo innocente presso il suo creatore e la solennità tutta sulla creazione che cosa ha detto Gesù attenzione bisogna cogliere queste sfumature se tu fai degli atti nella divina volontà e poi smetti gli atti rimangono in Dio ma tu perdi i diritti tu li perdi i diritti a cosa ad avere tutto quanto il godimento il beneficio che deriva da quegli atti compiuti nel divino volere e tutti gli effetti forieri di bene produttivi che esso ha la Madonna questi diritti li ha tutti quanti li acquisiti perché non l'ha mai persa la vita nella divina volontà perciò prosegue Gesù tutti si sentirono rinascere in lei e noi vedevamo in questa Vergine Santa nel suo piccolo cuore tutte le umane generazioni in germe quindi per mezzo suo l'umanità riacquistava i diritti perduti perciò la sua nascita fu la nascita più bella e più gloriosa quindi che cosa è successo Adamo ha compiuto degli atti che sono rimasti in Dio come pegni per far tornare il regno della divina volontà lui personalmente però dopo il peccato originale i diritti sulla divina volontà li ha persi l'umanità non del tutto perché è rimasto in Dio il pegno degli atti di Adamo compiuti in una divina volontà chi è stata colei che ha fatto riacquistare i diritti perduti di modo tale che dopo lei era solo questione di tempo tempo cioè che si consolidasse il regno della redenzione e si doveva consolidare perché siamo tutti quanti rovinati e dovevamo rimetterci in piedi prima di inaugurare la possibilità della risaldatura con l'Eden perduto la Madonna col suo percorso terreno netto ha riacquistato tutti i diritti per tutta l'umanità per cui dopo la vicenda terrena di Maria Santissima è solo questione di tempo i tempi grazie a Dio sembrano sicuramente almeno arrivati a livello voi sapete che negli scritti si parla di un regno della divina volontà che sembra essere un qualche cosa di grandi prospettive io non sono così esperto da addentrarmi ci dentro a questa cosa che non ritengo di avere la strumentazione per poterla affrontare una cosa è sicura che chiunque come singolo d'accordo leggendo e comprendendo e aprendo gli orizzonti e cominciando a camminare desideri cominciare a vivere questa vita dopo Luisa e dopo tutto quello che Gesù ha messo a disposizione è possibile farlo quanti l'hanno già fatto quanti lo stanno facendo quanti lo faranno io non lo so ma che sia possibile farlo è in dubbio e cominciare a vivere in questo modo vuol dire diventare generatori di vita soli per sé e per tutti non si può fare bene maggiore l'umanità questo sarebbe da mettere solo bene in testa anche questo che vivendo nella divina volontà non si può d'accordo non è possibile d'accordo non esiste cosa più grande di questa ecco quindi che il Signore ci aiuti a apprezzare comprendere e conoscere sempre meglio questo dono e con il suo aiuto a vivere appuntamento alla prossima settimana che probabilmente ci incontriamo mercoledì non martedì perché credo che martedì avrà un impegno e per cui ci dovremo vedere la serata seguente la mia benedizione a tutti santa notte grazie